siamo dj no non cantare ti prego non cantare non cantare c'è il palletone che arriva fermo Ilaria Ilaria ci ha regalato il begolibro fai vedere la parte quella simpatica questa è la parte simpatica poi giri c'è la parte ingacchiata bestia ecco perché noi abbiamo in mano a parte il begolibro benvenuti amici di begolino tv come mai abbiamo questi panettononzi meravigliosi allora intanto i panettononzi arrivano dal nostro parente in visita oggi salutiamo il forno casoni in quel di Pujanello siamo nell'Oregon si Pujanello d'Oregon Marco è arrivato e lui che li ha fatti con il suo manone ce li ha portati noi siamo orgogliosi tra l'altro è passato in vantaggio nella speciale classifica che ci porta dei natale con i tuoi le persone che ci vengono a trovare della nostra famiglia e ci portano i doni per ora è in vantaggio Mirko con otto e mezzo come valutazione beh devo dire che Marco scatta a nove scusa si può fermare questa canzone urticante no no perché è una cosa fastidiosissima la nostra canzone di Natale allora è bella è bella assolutamente così attenzione perché hanno scritto vogliono partecipare anche i Re Magi i Re Magi dove? i Re Magi qui al programma Natale con i tuoi che si è in loro porta vidoni ora incenso e birra è birra ecco dell'incenso me ne faccio poco dell'oro potrebbe essere la birra la birra sono più bambino sì beh vabbè ma dai che è tanto conto una cosa molto importante oltre alla canzone di Natale che con 99 centesimi si utilizzerete intanto per ascoltare una bella canzone insomma bella cioè quella che è bravo e poi farete del bene ad Ageop tutto su radiobruno.it e poi occhio perché siamo qui ancora una volta ragazzi a chi dona 10 euro noi daremo in cambio la t-shirt hashtag noi con voi mi raccomando per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto nel centro Italia in particolare c'è un progetto concreto che leggo progetto in collaborazione con la regione con la regione Emilia Romagna per la ricostruzione scuole e municipio del comune di Montegallo Ascoli Piceno ecco anche Begolino è d'accordo lui ha già comprato la t-shirt e nei prossimi giorni gliela metteremo anche sì metteremo però se adesso Begolino ti metti un po' tranquillo vieni noi vi diamo appuntamento per Begolino TV alle prossime puntate facciamo vedere la foto del nostro fornaio che è venuto a trovarci stamattina il parente in visita negli studi di Radio Bruno eccolo qua è lui e Marco con la divisa da fornaio tra l'altro aveva gli abiti che profumavano di pizza è vero è vero Natale con i tuoi eccoci qua ragazzi a domani con un'altra puntata di Natale con i tuoi gli ascoltatori parenti verranno a trovarci stamattina non ho mai tirato sulla sedia è vero è vero che non l'ho fatto perché non mi sono dimenticato che abbiamo tante cose che bello ciao a domani ciao